ma come lo sasso senza caffè? va bene guardi le pavette, levo sasiccio qui è ricca a direzione lo scalone no, fallo allora lo paletto che io con la pennellessa no, no, io faccio che ho il suo pennello chissi, vuoi che ho il paletto a me mi viene male con la pennellessa tu che ho il pennello ci dico questo caro non è anche l'attività quando stanno coggiando la furomana poi ci pare che faccio il pittore io faccio il parcheggiatore un po' quasi ma come io puro? puro questo è un po' il tuo sogno non c'è affoglio ma non c'è ma non c'è non c'è non c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo è il motivo che io sto facendo questa dichiarazione, perché noi non ci possiamo spremere come un limone che stiamo uscendo tutti i soldi di tasca nostra. E' qualcosa che l'abbiamo raccolto con gli amici, con qualche negozio, stiamo realizzando qualcosa, però ancora rimane abbastanza da pagare. Io voglio ringraziare tutti coloro che vogliono contribuire nella prossima settimana, quando giochiamo in casa, se vogliono fare qualche offerta per completare quest'opera, noi ne saremo liete tutti. Grazie a tutti anticipatamente. Allora, vogliamo ringraziare la titta che ci ha fornito i colori, dove ci ha trattato veramente da amici. E noi ne siamo liete e ne parleremo sempre bene del signor recupero di Palazzone. Grazie signor recupero per averci aiutato a completare quest'opera, io le ringrazio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.